Lo pagheranno Che non... Sei completamente impazzito Questa era la mia settimana Non potevi prendere rune senza avvertirmi Non potevi farlo Bisogna essere proprio stupidi Per arrivare a rapire il proprio figlio Lo sai quanto sarà facile ora per me ottenere la custodia? Tu sarai dichiarato inaffidabile E potrai vederlo soltanto due ore al mese E sotto sorveglianza se sarai fortunato L'avvocato dice che ti sei bruciato tutte le chance Assolutamente Adesso vado su a prendere rune E se ti permetti di... Certo! Certo!